Paganini non ripete. Paganini non ripete, ricordati. I cinesi, tu perché sei d'accordo con i cinesi? Esatto. Paganini non ripete. Colazione dei campioni. Molto impegnato. Eccoci qua, nuovo video, oggi girettino in montagna fare un aperitivo a Fiegni. Come sempre quando andiamo da queste parti c'è la puntatina a metà giro dell'aperitivo soft e vediamo un po'. Giornata spaziale, sole della madonna, lago, lago oggi, ne vedremo un altro dopo. Bellissimo. Saluta. Non mi hai voglia. Ok. Bene bene. Tutta solita. Paganini non ripete. E tre. Paganini non ripete. E quattro. Stai sempre ripetendo. Paganini non ripete. Cinque. Basta. Paganini non ripete. Tranocchia. Bello bello cazzo. Ma che roba. Non ripete. Ti stai vedendo per me fa io? Ah, venti? Ho qua, ho? Grazie a tutti. 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 Bello, bello, bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Occhio. Dovrebbe essere giusto. Dovrebbe essere giusto. Dovrebbe essere giusto. Eccolo. 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 Faccio. Eccolo. C'est un po' di più. C'è un po' di torno, non, c'è un po' di torno. allora è perfetto già questa mi sta sulle palle allora che cazzo di sentire è che non è Ehi qua! 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 Ehi qua!